Musica Terme di sciacca molto partecipata ieri mattina all'Assemblea cittadina promossa dal Comitato Civico Patrimonio Termale e c'è preoccupazione per l'oblio nel quale la vicenda a livello di governo regionale sembra essere nuovamente precipitata Mentre la strada ancora in piedi rimane quella di cassa depositi e prestiti l'Assemblea di ieri mattina ha deciso che il 6 marzo per i nove anni di chiusura degli impianti ci sarà una nuova manifestazione popolare per le termi di sciacca Rifiuti, bollette e tari già notificate a tanti cittadini si accensi ma già scadute è un'anomalia sollevata dal consigliere Calogero Bono il quale chiede all'amministrazione di chiarire che in ogni caso non saranno applicate sanzioni Caro Voli è attivata questa mattina la piattaforma per chiedere il rimborso del 25% del costo dei BF aerei che può arrivare al 50% per alcune categorie sconti previsti dalla regione per i collegamenti con Roma e Milano Dalla il sipario sulla sciacca film fest soddisfatto il patron Sino Caracappa Sala degli specchi cremita ieri sera per la presentazione del libro Sua Massa del giornalista scrittrice ed esperta di Medio Oriente Paola Caridi Sport Calcio vince l'Unitas Sciacca contro l'Accademia Trapani Società Neroverde alla ricerca del terzo tecnico stagionale dopo le dimissioni sabato scorso di Boncore Alla volo doppia vittoria per il volley club Sciacca Bentrovati anche oggi al nostro telegiornale è stata molto partecipata all'assemblea cittadina di ieri mattina nel salone della chiesa della Perriera promossa dal comitato civico patrimonio termale per parlare delle terme è emerso il disappunto per il solito obbligo nel quale la vicenda a livello di governo regionale sembra essere nuovamente precipitata la strada tuttora ancora in piedi a meno di smentite che però non ci sono e pur tra pareri contrari all'interno dello stesso esecutivo tra cui quello dell'assessore deputato grigentino Roberto Di Mauro sembra essere quella di cassa depositi e prestiti l'assemblea ha deciso che il 6 marzo in concomitanza con i nove anni della chiusura degli impianti ci sarà una nuova grande manifestazione popolare intanto ce ne parla Massimo D'Antonio Anche la rosa dell'unità Seshac accompagnata dal presidente Bentivegna si è presentata ieri mattina nel salone della Perriera per partecipare simbolicamente anche attraverso un soggetto che sicuramente alimenta il concetto di comunità all'assemblea cittadina indetta dal comitato civico patrimonio termale per fare il punto sulla vertenza terme questione che a Palermo nei palazzi della regione sembra nuovamente caduta nell'oblio sempre in attesa che l'auspicato interessamento di cassa depositi e prestiti si concretizzi per rimettere in sesto beni sempre più a rischio e depauperamento al momento al comune risulta ancora che l'orientamento della regione sia quello di puntare su cassa depositi e prestiti ha detto Fabio Termine E allora dobbiamo avere un'interlocuzione forte con il governo regionale che ci deve dire effettivamente se vuole portare avanti questa iniziativa quella di cassa depositi e prestiti o se ha altre idee ma una cosa è certa oggi il proprietario legittimo è la regione siciliana ma il proprietario morale è il comune di Sciacca perché questo è un bene che insiste nel comune di Sciacca Si sa però che il deputato Grigentino e assessore dell'esecutivo Schifani Roberto Di Mauro che potrebbe essere lui il vero punto di riferimento della battaglia sulle terme la cui realtà è da lui molto conosciuta sarebbe contrario al progetto di cassa depositi e prestiti La sua parola è ascoltata perché nell'incontro informale che abbiamo avuto col capo dipartimento ci siamo accorti che aveva assorbito molto l'opinione di Di Mauro e molto meno quella del resto del tavolo quindi vuol dire che pesa perché dava per scontato che il tavolo si fosse pronunciato contro la cassa depositi e prestiti mentre non era assolutamente così e ha citato Di Mauro ma come il tavolo avete fatto capire che la cassa depositi e prestiti non era perseguibile? Risposta ma chi? Quando? Alla manifestazione hanno preso parte anche i vertici degli altri comitati Sciacca Terme rinasce, associazione ora basta un segnale sicuramente positivo della necessità che si faccia a squadra che si parli con una sola voce Non abbiamo parlamentari qua in Sicilia in grado di prendere in mano la gestione di questa vicenda Quindi il bacino di Di Mauro di Sciacca coincide con l'intero territorio comunale c'è un decreto interassessoriale del 75 che lo stabilisce il che significa che ci dovrebbe essere una tutela dell'idrotermomineralità di Sciacca che non c'è Ma non ci sono più risposte e questo malgrado l'assessore Falcone avesse annunciato perfino la disponibilità di un fondo economico per rimettere in sesto le terme Noi abbiamo avuto la possibilità di un incontro nel corso della settimana scorsa e noi abbiamo già mandato la relazione che dovrebbe servire per l'aspetto del rapporto con la cassa depositi e prestiti E l'avete mandato alla relazione? Sì! E il funzionario che si interessa chi è? È il signor Taldetale Parliamo con il signor Taldetale Dice a me non è arrivato niente Ecco perché noi siamo qua Cioè è assolutamente necessario che questa nostra Sciacca dicevo poco fa parlando con un amico è una sorta di bella addormentata L'obiettivo dell'Assemblea, confidando che dalla regione giungano finalmente notizie è quello di organizzare una nuova grande manifestazione di protesta di effettuarsi stavolta il 6 marzo in concomitanza con il nono anniversario della chiusura degli impianti Dobbiamo scendere democraticamente Pacificamente in piazza ma ci siamo a rompere le rine Il giorno della protesta si deve chiudere tutto a Sciacca anche le attività i barri devono essere chiuse si deve soffrire Cari signori, le termine non sono state solo le curie termali per tanto tempo sono state anche un punto di fisioterapia per ragazze disabili Diventando comunità, e lo siamo possiamo portare alla regione il dossier Sciacca noi abbiamo troppe cose da risolvere Bisognerebbe che se fossi un po' pratici e concreti e seguire quella lettera non arriva bene, ci postiamo e cerchiamo di farla arrivare ci andiamo lì a Palermo andiamo a vedere no, dobbiamo pensarsi dopo sei mesi e arriva la Cassa Depositi e Prestiti e arrivano i nostri e arriva chiunque che però siano cose concrete perché di chiacchiere purtroppo in questi anni ce ne sono state tante noi avevamo espresso io stesso avevo pensato una soluzione anche parziale se potrebbe essere più veloce ma non può farla più liquidatore che in fase di chiusura e c'è quello di dire bene ma se le piscine si possono riaprire se il San Francesco si può riaprire e renderlo fribile è già un segnale e quando ero arrivato brevemente da parlamentare nel 2008 le termine erano ancora aperte seppure sotto forma di società per azioni fino al 2012 sembra che sia un aspetto marginale invece secondo me è un aspetto centrale è quello di indire un referendum di nuovo perché la città adesso è assolutamente matura e fare questo referendum se rifacciamo quel referendum e diamo di noi vogliamo essere sciacca terme sciacca terme ma senza le terme perché le terme ce le hanno chiuse abbiamo Ficarra e Picone che hanno sposato diverse problematiche sul mare sull'ambiente quindi perché non chiedere anche a loro una mano tra i geositi dell'UNESCO avevamo pensato di fare scrivere ne aveva tutte le caratteristiche il geosito di Monte Cronio che noi possiamo utilizzare le nostre terme non a livello regionale ma nazionale per tutte quelle persone che sono state affette da Covid e hanno ancora problemi bronco respiratori io credo che noi siamo fermati da una provincia che per quanto mi riguarda mi viene stretta cambierei pure provincia a questo punto e l'assemblea cittadina accendiamo le terme di sciacca promossa dal comitato civico patrimonio termale che si è svolta ieri mattina è stata ripresa integralmente dalla nostra emittente e sarà trasmessa questa sera alle ore 20 su RMK Canale 80 incidente con tre feriti ieri sera in località Piano Monaco di Caltabellotta nella strada che collega la provinciale 88 con la statale 115 secondo una prima ricostruzione lo scontro è avvenuto tra una Golf e una Peugeot un uomo di Caltabellotta è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Sant'Ilie di Caltanissetta e altri due feriti due coniugi di Sant'Anna sono stati ricoverati all'ospedale di Sciacca controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo durante lo scorso fine settimana denunciati un 27enne del luogo con pregiudizi di polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti 8 persone 4 italiani e 4 stranieri fra i 20 e i 35 anni tutti con pregiudizi di polizia per porto di armi ed oggetti atti ad offendere un 43enne del luogo anche lui con pregiudizi di polizia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli 3 persone del luogo 2 italiani ed uno straniero fra i 41 e 59 anni con precedenti di polizia per guida e stato di ebrezza alcolica il 41enne è risultato anche positivo all'assunzione di stupefacenti nel corso delle attività sono state inoltre segnalate alla prefettura di Trapani 13 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale cambiamo argomento bollette tari già notificate a molti contribuenti saccensi ma già scaduta e il consigliere Calogioro Bono ad evidenziare l'anomalia già successa in passato e a chiedere all'amministrazione di chiarire alla città che in ogni caso non saranno applicate sanzioni ne parliamo nel servizio ci risiamo in questi giorni diversi contribuenti saccensi hanno ricevuto le bollette della tari 2023 scoprendo che avrebbero dovuto essere pagate entro il 30 novembre tanti altri aspettano ancora la consegna ovviamente scopriranno che è stata superata la scadenza prevista non è la prima volta che succede lo rimarca oggi il consigliere comunale Calogioro Bono che chiede all'amministrazione di chiarire alla città che in ogni caso non saranno applicate sanzioni non è certamente una responsabilità del contribuente se la bolletta viene consegnata in ritardo o a ridosso della scadenza del 30 novembre un pronunciamento ufficiale dell'amministrazione comunale dichiara il consigliere Calogioro Bono è comunque necessario a fronte della preoccupazione manifestata da quanti hanno ricevuto in questi giorni la bolletta della tassa rifiuti constatando che è già scaduta la data entro la quale effettuare il pagamento in unica soluzione o della prima rata anche per la Tari 2023 è prevista per il contribuente la possibilità di rateizzare l'importo nelle quattro date previste si attende dunque a questo chiarimento da parte dell'aggiunta termine tassa rifiuti che rappresenta un peso non indifferente per i saccensi almeno per quelli che la pagano considerate le sacche di evasione che continuano a registrarsi seppure proprio recentemente l'assessore Sabella abbia evidenziato che la percentuale degli evasori si è ridotta del 20% fino a due anni fa a pagare la Tari era il 40% dei contribuenti adesso siamo arrivati al 60% c'è poco ad essere contenti perché è bene ricordare che il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ricade interamente sulla comunità e se non pagano tutti chi paga è doppiamente penalizzato festa di Santa Barbara patrona della Marina Militare questa mattina all'interno della chiesa di San Pietro dove c'è stata la celebrazione della Santa Messa alla presenza delle autorità civili militari e religiose una ricorrenza sei sentita da tutta la marineria promossa dall'ufficio circondariale marittimo di Sciacca guidato dal comandante Biaggio Cianciolo e dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia preseduta da Vito Sclafani vediamo autorità civili militari e religiose cooperative di pesca ma anche tanti studenti questa mattina per la festa di Santa Barbara patrona della Marina Militare celebrazioni organizzate come di consueto dall'ufficio circondariale marittimo di Sciacca guidato dal comandante il tenente di vascello Biaggio Cianciolo e dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia preseduta da Vito Sclafani i festeggiamenti hanno preso il via nella chiesa di San Pietro con la celebrazione della Santa Messa ufficiata dal parroco Antonino Catanzaro e dall'arciprete Giuseppe Marciante la ricorrenza della nostra patrona Santa Barbara è una ricorrenza importante per noi abbiamo voluto approfittare proprio di questa giornata così importante per i marinai per tutti i marinai non solo quelli che indossano le stellette per un momento di bella condivisione sociale qui a Sciacca quindi proseguendo nel solco della tradizione abbiamo voluto appunto coinvolgere non solo le istituzioni i colleghi delle altre forze armate forze dell'ordine le associazioni d'arme combattentistiche ma anche tutta la cittadinanza in particolare i rappresentanti delle cooperative quindi dei pescatori le scolaresche perché secondo secondo noi queste sono delle belle occasioni per vivere la società per trasmettere anche alla società una bella idea di legalità di condivisione e di sinergia tra le istituzioni questa ricorrenza è molto importante perché è come se desse il segno di quello che la marina deve essere un amore profondo per l'uomo e un amore profondo per la vita che poi diventano i segni importanti che poi diventano le particolità di Santa Barbara che è vergine e martire chiaramente è più specifico per la capitania di Porto per la marina militare ma noi in quanto quartiere marina accogliamo e assumiamo in noi questa grande santa e la facciamo diventare anche la nostra patrona per il comandante Cianciolo alla guida del circomare di Sciacca dallo scorso mese di settembre sono stati tre mesi di intensa attività non soltanto in ordine alle specifiche competenze dell'ufficio ma anche sotto il profilo delle iniziative di sensibilizzazione portate avanti in collaborazione con enti istituzioni e associazioni del territorio abbiamo improntato la nostra attività oltre che naturalmente alle attività istituzionali di controllo anche di repressione soprattutto a una funzione di condivisione e di permettetemi il termine di educazione perché il nostro obiettivo non è quello di reprimere soltanto di controllare il nostro obiettivo è quello di formare anche l'utenza perché l'obiettivo è comune è il rispetto della legalità quindi nel rispetto delle regole vogliamo appunto lavorare bene con tutti i nostri interlocutori con tutte le altre istituzioni e con tutta l'utenza questo è l'obiettivo del Circo Mare la celebrazione di Santa Barbara inoltre è dedicata a tutti gli uomini delle Capitanerie di Porto impegnati in prima linea sul fronte immigrazione Chiaramente è un settore in cui il corpo in questo momento è molto impegnato pur non toccandoci direttamente qui nel territorio di Sciacca comunque siamo stati come tutti sanno coinvolti nello spiaggiamento di barchini utilizzati per l'immigrazione ecco noi ci siamo fatti parte proattiva anche collaborando con le altre istituzioni in particolare con i comuni per cercare ove possibile di rimuovere per esempio questi barchini in tempi brevi per evitare che potessero rappresentare un pericolo per la collettività Santa Barbara è anche patrona dei Vigili del Fuoco e oggi pomeriggio le celebrazioni si sposteranno alle 16.30 presso la Basilica Maria Santissima del Soccorso a celebrare la propria patrona saranno gli uomini del distaccamento saccense dei Vigili del Fuoco altro importante presidio di sicurezza quotidianamente impegnato a salvaguardia della città e del territorio attivata questa mattina la piattaforma attraverso la quale poter chiedere il rimborso del 25% del costo dei biglietti aerei che può arrivare fino al 50% per alcune categorie sconti quelli previsti dalla regione siciliana validi solo per i collegamenti tra gli aeroporti dell'isola Palermo e Catania e quelli di Roma e Milano costo dei biglietti aerei che a ridosso delle festività natalizie è schizzato anche quest'anno e che per alcune tratte può arrivare anche a 500 euro sentiamo il servizio è stata attivata la piattaforma della regione siciliana attraverso la quale è possibile soffrire dello sconto sul costo dei biglietti aerei del 25% per i residenti siciliani e che arriva al 50% per alcune categorie parliamo di residenti con almeno il 67% di invalidità studenti o residenti con basso reddito non oltre 9.360 euro di sé è bene ricordare poi che gli sconti saranno applicati solamente per i collegamenti aerei tra gli aeroporti siciliani Palermo e Catania e quelli di Roma e Milano non su tutte le altre tratte la piattaforma è attiva dalle ore 9 di questa mattina e fino alle ore 18 del 30 gennaio del 2025 servirà a chiedere il rimborso del 25% del 50% del costo del biglietto aereo soltanto AeroItalia al momento è infatti previsto una riduzione diretta al momento dell'acquisto per poter richiedere il rimborso quindi è necessario accedere alla piattaforma regionale non è ammessa altra forma di trasmissione cartaceo o telematica e la procedura andrà effettuata entro 30 giorni dalla data del volo è necessario dotarsi di speed o carta di identità elettronica accedere alla piattaforma e completare le differenti sezioni funzionali alla presentazione della richiesta di sconto possono presentare istanza di rimborso i viaggiatori già in possesso di biglietto acquistato a partire dal 10 novembre e per i voli dal 1 dicembre di quest'anno al 31 dicembre del 2024 costo dei bigliettini che anche per queste festività è intanto schizzato alle stelle un monitoraggio di asso utenti ha rilevato come si possa arrivare a spendere anche 521 euro per il volo Bologna Palermo andate e ritorno a ridosso delle festività ma il caro voli riguarda anche il Torino Palermo Torino Catania con una spesa di circa 446 euro mentre per il volo andate e ritorno Pisa Palermo il costo previsto è di circa 400 euro tratte per le quali non è previsto lo sconto deciso dalla regione siciliana si è concluso ieri sera lo Sciacca Film Fest una manifestazione che ha reso protagonisti gli studenti dell'istituto comprensivo Inveges e quelli delle università delle tre età soddisfazione da parte di Sino Caracappa patron della manifestazione per i risultati conseguiti e l'11 marzo ci sarà un appendice con la proiezione di cortometraggio a cui si potrà assistere gratuitamente in collaborazione con il comune E rimanendo in tema di Sciacca Film Fest tra i presenti ieri sera nella sala degli specchi a margine della manifestazione per la presentazione del libro Sua Mass della giornalista scrittrice ed esperta di problemi geopolitici del Medio Oriente Paola Caridi intervistata da Massimo D'Antoni la direttrice artistica del letterando in fest ha fornito molti chiarimenti sulle ragioni di un conflitto quello scattato il 7 ottobre che affonda le radici nella storia il servizio di Maria Genuarti A Mass dalla resistenza al regime questo è il titolo del libro della giornalista e scrittrice esperta dei problemi medio orientali Paola Caridi che ieri sera nella sala degli specchi a margine dello Sciacca Film Fest ha parlato di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre scorso nei confronti del quale è tuttora in corso la sanguinosa rappresaglia israeliana perché voglio chiederti questo c'è una società lì che tu conosci per averla frequentata per averci vissuto per motivi di lavoro dove la gente vorrebbe vivere serenamente un ebreo un israeliano che riconosce l'esistenza dell'altro e viceversa io so che ci sono queste persone ci sono ed è appunto perché non hanno spazio nei centri decisionali queste persone evidentemente tu mi dirai vanno a votare se possono evidentemente la loro posizione non riesce ad essere ad incidere vorrei riconoscere la tua riflessione su questo visto che ci sono qui le mie amiche insegnanti e i miei amici insegnanti non è vero che non conta l'educazione e non è vero che non conta la formazione in quel libro per ragazzi che era Gerusalemme e la storia dell'altro citavo un manuale di storia vabbè sono fissata sono una storica sono fissata che si chiama appunto la storia dell'altro che già dice tutto nel titolo che è rintracciabile in italiano lo si trova peraltro online in pdf oppure si scrive alla città di Forlì che è questa rivista molto bella che l'ha stampata in italiano e la cosa bellissima di questo di questo manuale è scritto da un israeliano e un palestinese l'israeliano è morto Daniel Barona era uno psicanalista quando chiesi al suo amico palestinese Samia Adwan e loro poi si sono conosciuti e le loro famiglie si sono conosciute e sono diventati più che amici ma adesso come va senza Daniel Barona dice mi manca una gamba ma continuo ad andare avanti loro hanno fatto una cosa che è sempre semplicissima e che in parte è l'uovo di Colombo che è quella di dire non possiamo scrivere la stessa storia non possiamo mettere insieme le nostre storie e scrivere una storia comune perché adesso non è possibile non ci sono riusciti in Libano guerra civile esiste un manuale di storia libanese no perché perché sono spaccati allora bene ma almeno la dobbiamo conoscere la storia dell'altro e quindi hanno fatto questo libricino in cui c'è da una parte le date e l'interpretazione della storia da parte dei palestinesi dall'altra parte quelle date e l'interpretazione della storia da parte degli israeliani questa cosa risolve certo che non risolve ma io devo capire che cos'è per l'altro il 1948 è la creazione dello Stato di Israele per gli israeliani per i palestinesi che cos'è la NABBA sono 700.000 palestinesi cacciati dalle loro case se queste storie non si conoscono non ci sarà pace e non ci sarà soprattutto quella pace giusta perché una cosa è far la pace una cosa è la resa incondizionata una cosa è la normalizzazione altra cosa è la pace in rispetto e dignità e la pace non la fanno gli amici la fanno i nemici questo è l'altro libro pace e guerra la pace si fa con il cattivo chi definisce il cattivo per gli israeliani sono i palestinesi per gli palestinesi sono gli israeliani ma Filippo citava una nostra serie tv di culto che è The Diplomat che vi consiglio caldamente che nell'ultima puntata dice appunto la diplomazia dice uno dei protagonisti diplomatico di lungo corso la diplomazia non serve a niente la diplomazia non serve a niente la diplomazia non serve a niente fino a che non arriva a far qualcosa perché bisogna parlare con il cattivo parlare con il terrorista far la pace con il cattivo perché non c'è altra soluzione e cosa succederà adesso? la sfera di cristallo non ce l'abbiamo no no ma io mi sono ma deve completamente radere al suolo Gaza non è possibile radere al suolo Gaza peraltro Gaza nella storia palestinese ha un ruolo importante a parte il fatto che Gaza non è solamente le macerie che in parte vedete raramente nei telegiornali italiani Gaza è il monachesimo orientale è cominciato oltre 1500 anni fa i primi monaci sono stati a Gaza era la chiesa di San Porfirio che è stata bombardata e zone archeologiche che non esistono più è una cultura vivacissima che è continuata finché è stata possibile era un porto che aveva alle spalle delle terre agricole che invece poi nel 48 è stata proprio diminuita è diventata proprio una striscetta proprio una una specie di cerotto lungo e l'unica cosa che noi possiamo non solo aspettarci ma di cui ci dobbiamo assumere la responsabilità è quella del cessato il fuoco perché da quel momento in poi si può capire dove va la storia e si può incidere sulla storia ma senza quel cessato il fuoco non si va da nessuna parte perché se i bombardamenti continuano nel sud della striscia sono state spostate ci sono oltre un milione di persone che si sono spostate nel giro di poche settimane dietro ordine israeliano dal nord al sud della striscia se continuano i bombardamenti come in queste 48 ore sul sud della striscia vuol dire che si vogliono spingere queste persone nel sinai egiziano per gli egiziani per i giordani questo significa una nuova nakba per i palestinesi questo significa una nuova nakba non è non dobbiamo pensarla come noi con i migranti di Lampedusa che non vogliamo i migranti di Lampedusa nessuno nel mondo arabo si vuole assumere l'onere di sancire una nuova espulsione dei palestinesi dopo quella del 48 e nessuno vuole gestire le macerie di Gaza quindi il tentativo che è stato fatto fin dai primi giorni dopo il 7 ottobre di dire vabbè ma si possono prendere i palestinesi non è come dire una accoglienza dei migranti significa sancire politicamente che non esista più la Palestina se l'assumono questa responsabilità i paesi arabi e noi ce l'assumiamo questa responsabilità di dire no ma gli arabi non vogliono bene i palestinesi e noi come abbiamo inciso sulla questione israelo-palestinese il libro di Paola Caridi su Hamas movimento politico e terroristico che sostiene la causa palestinese è uscito per la prima volta nel 2009 ma è stato riaggiornato e ripubblicato da Feltrinelli dopo l'attacco terroristico di due mesi fa alla presentazione del libro hanno assistito numerose persone che hanno ascoltato con estrema attenzione i ragionamenti di una studiosa che conosce a menadito la realtà complessa medio orientale non completamente interpretabile ma che sociologicamente politologicamente offre numerosi spunti in una vicenda che affonda le radici in un passato a dir poco difficile oltre che drammatico che rende il futuro al momento non completamente decifrabile la presentazione del libro di Paola Caridi è stata ripresa integralmente dalla nostra emittente e sarà trasmessa domani lo stato delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale della città di Sciacca al centro di una interrogazione presentata dal consigliere Ramundo Brucculeri che già lo scorso anno aveva sollevato il problema ottenendo dall'amministrazione l'impegno che di lì a breve il comune avrebbe provveduto e invece a distanza di un anno osserva Brucculeri nulla è stato fatto con l'aggravante che la situazione è notevolmente peggiorata Brucculeri reitera pertanto l'interrogazione a suo tempo presentata con l'auspicio che il nuovo assessore Antonino Certa possa intervenire in modo celere ed efficiente per rimuovere lo stato di pericolo interrogazione in cui si segnalava come molte strade della città sia nel centro storico che in periferia risultano sprovviste di segnaletica orizzontale e strisce pedonali di attraversamento e festivamente infisibili in quanto quelle esistenti sono quasi del tutto cancellate dall'usura con la conseguenza che in caso di incidenti sulle strisce pedonali invisibili o praticamente inesistenti o in caso di danni fisici ai pedoni il comune di Sciacca potrebbe essere ritenuto responsabile e quindi obbligato ad eventuali risarcimento ricorre domani la giornata internazionale del volontariato a Sciacca sarà celebrata con un incontro tra tutte le realtà operanti nel territorio per fare il punto sulle attività svolte e sui progetti futuri un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale dal CESPOP vediamo il servizio il volontariato tra valori questione sociale sussidiarietà e beni comuni è il titolo dell'incontro in programma domani pomeriggio con inizio alle ore 16 presso la sala Blasco del palazzo municipale di Sciacca domani è la giornata internazionale del volontariato e l'occasione per riunire tutte le associazioni che operano in città la giornata infatti si chiama ascolto ed è il pretesto è appunto la giornata internazionale dedicata al volontariato che cade ogni 5 di dicembre e abbiamo voluto questo incontro proprio perché l'ascolto è il principio delle associazioni di volontariato che si prodigano sul territorio ascoltando i bisogni della gente i bisogni del territorio anche dei luoghi e mettendo in pratica delle soluzioni che spesso vanno non solo a vantaggio della comunità ma anche dell'azione amministrativa e vuole essere questa giornata una specie di momento di riconoscimento di tutto il lavoro svolto e anche la possibilità di un confronto ulteriore in cui l'ascolto si estende da un'associazione all'altra a tutti quelli che saranno appunto i progetti futuri o i progetti già svolti e che fanno hanno fatto o faranno la differenza nella risoluzione di molti problemi appunto della nostra comunità l'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale dal CESVOP che da anni collabora con il comune in varie attività noi come Centro Servizi Volontariato di Palermo abbiamo messo su la casa del volontariato che è un fiore all'occhiello perché anche se i locali non sono chissà chi però ci ha consentito a noi associazioni di volontariato di incontrarci di mettere insieme le forze e insieme al comune presentare dei progetti e delle iniziative questo deve continuare ancora di più e noi ad Agrigento nella provincia di Agrigento perché io rappresento come Centro Servizi la provincia di Agrigento già sono due i patti di collaborazione che sono stati fatti proprio per le case del volontariato uno è a Santo Stefano di Quisquina e uno qui a Sciacca quindi questa collaborazione ha dato frutti preziosi perché è chiaro che c'è un rapporto continuo diretto con l'amministrazione e molte cose vengono proprio agevolate dai patti di collaborazione la casa del volontariato è un esempio tangibile di quello che significa progettare insieme e attività iniziative e momenti e come dice l'assessore Sinagra giustamente è ascolto ascolto dei bisogni che ci sono l'invito è a partecipare chiaramente quello che desideriamo è che siano presenti tutte le associazioni di volontariato proprio per questo scambio e questo momento di comunione di condivisione di quelli che sono poi gli obiettivi del volontariato in genere a pochi giorni dall'avvio dei saldi invernali in Sicilia Cofi Imprese chiede un confronto con l'assessore regionale alle attività produttive per il calendario delle vendite promozionali nell'isola e soprattutto per una revisione della legge sul commercio fisico sempre più penalizzato dal commercio online dove le promozioni si svolgono 365 giorni l'anno sentiamo il servizio a poche settimane dal consueto avvio dei saldi invernali nell'isola il 2 gennaio prossimo la regione siciliana non ha ancora stabilito la data di inizio della campagna delle svendite Confi Imprese a Sicilia solleva il problema e con una nota inviata all'assessore regionale alle attività produttive di Tamaio chiede la convocazione della riunione propedeutica all'approvazione del calendario delle vendite promozionali e dei saldi per il biennio 2024-2025 la convocazione della riunione e la successiva emanazione del decreto assessoriale per la regolamentazione dei saldi che ancora non sono state fatte dichiarato il coordinatore regionale di Confi Imprese Giovanni Felice devono avvenire nel più breve tempo possibile poiché bisogna colmare una lacuna normativa e dare indicazioni chiare alle aziende e ai consumatori nell'attuale momento economico generale continua il coordinatore regionale di Confi Imprese Sicilia la scelta delle date non può rappresentare un semplice passaggio burocratico né tantomeno una mera accettazione delle trattative ed orientamenti della conferenza Stato-Regioni che se confermate non tengono nella dovuta attenzione gli input che i consumatori stanno dando al mondo del commercio attraverso i mutamenti delle abitudini e modalità di acquisto è sempre più evidente ribadisce Felice che la crescita del commercio virtuale rischia di sbaragliare il commercio fisico con i conseguenti mutamenti come quelli che riguardano la morfologia delle città e dei centri storici che già si manifesta chiaramente determinando la desertificazione commerciale dei centri storici delle vie tradizionali del commercio e dei mercati tradizionali Confi Imprese Sicilia evidenzia come il commercio online abbia offerte e campagne promozionali 365 giorni l'anno in Italia con una partecipazione a novembre alla campagna promozionale del Black Friday che supera l'80% delle adesioni e che riguarda tutti i prodotti e le tipologie di attività farmacie comprese l'Associazione delle imprese siciliane chiede all'assessore regionale che in fase di regolamentazione delle vendite promozionali dei saldi per il biennio 2024-2025 si prende atto che è necessaria una riforma sul ruolo del commercio fisico nell'era della digitalizzazione la compagnia teatro oltre di Sciacca vincitrice del festival Maricchia organizzato dalla compagnia e il carro di Tespi e dalla Wilt per commemorare il 450esimo anno dall'assassinio della baronessa di Carini nel castello La Grua Telemanca nell'ambito dell'iniziativa è stato organizzato un festival di corti teatrali la compagnia Saccense si è presentata con un corto dal titolo I cassetti della memoria scritto e diretto da Maria Grazia Catania che è stato selezionato e portato in scena venerdì primo dicembre in scena Donatella Verde Francesca Piro è la stessa autrice del corto ieri sera durante la premiazione la compagnia Saccense è stata proclamata vincitrice del festival e Maria Grazia Catania ha ritirato il premio miglior spettacolo un riconoscimento importante per la sezione rosa della compagnia Teatro Oltre che aspira a tornare ad organizzare festival e rassegna a Sacc come accadeva prima della pandemia Arte sono una ventina le opere di Rosa Anna Argento in mostra presso il circolo di cultura di Sacc si tratta di una personale dal titolo Cuore a Tolos inaugurata sabato scorso e che sarà visitabile fino a domenica 10 dicembre vediamo di cosa si tratta Cuore a Tolos questo il titolo della mostra di Rosa Anna Argento che è stata inaugurata sabato sera a Sciacca presso i locali del circolo di cultura l'esposizione curata da Letizia Bilella è stata sostenuta dal Lions Club Sciacca Host preseduto da Marco Maggio i dettagli nelle interviste all'autrice e alla curatrice della mostra Cuore a Tolos io l'ho pensato fortemente l'ho voluto fortemente perché in questi tempi che viviamo abbiamo bisogno di protezione e già la Tolos che è un ambiente speciale della nostra della nostra antichità dà quel senso io l'ho utilizzato proprio per questo perché in questo momento abbiamo bisogno di protezione di chiudere di riparare ecco i nostri valori e i nostri sentimenti quindi Cuore a Tolos è un cuore che accoglie ma nello stesso tempo protegge in mostra sono una ventina di opere all'incirca le tecniche sono diverse io faccio l'artista come professione non è un passatempo ecco il mio per cui nasce dallo studio e io direi che seguo una linea socratica dell'arte cioè un'arte che si informa un'arte che vive del sociale e che soffre per gli eventi che accadono attorno a noi quindi non è un'arte che apre la finestra e dipinge quello che vede ma è un'arte che guarda al cuore quello che prova il cuore ecco quindi c'è Dante uno di noi con l'inferno di oggi c'è l'uccisione di padre Pino Puglisi ci sono le bamboline che rappresentano le bambine violate e proprio siamo in tempi appunto che vediamo tanti femminicidi e ogni opera mia ha il suo perché e il suo percorso Coratolos è un mix di emozioni di sensazioni l'arte è la panacea per tutti i mali ed è quello che l'artista l'architetto Rosanna Argento vuole indicare in ogni sua opera sono svariate tecniche dalla carta da pacchi a tele ad acrilico come la tela che ho alle spalle Coratolos dicevo inizia oggi come omaggio alla città di Sciacca e vuole essere un omaggio ai cittadini cittadini che possono ammirare opere e in cui rispecchiarsi rispecchiarsi perché scoprire un momento particolare della propria vita un ricordo un'emozione una sensazione la mostra iniziando oggi ha in previsione una una tournée che pensiamo di organizzare sia per la provincia di Agrigento ma anche in tutto il resto dell'isola e quindi portare l'arte di Rosanna Argento portare le emozioni che le opere di Rosanna Argento suscitano e di cui trasudano in giro per la Sicilia in modo tale da condividere un'arte frutto di sacrificio di studio di attenta ricerca e condividerla con il resto del mondo Sciacca sarà visitabile qui presso il Circolo di Cultura fino a domenica 10 nei momenti nei giorni e nei orari di apertura del Circolo Vediamo adesso il libro da leggere nella consuetà rubrica appunto del libro Questo libro si apre con il racconto delle settimane immediatamente successive al massacro compiuto dai terroristi palestinesi in Israele ai confini con la striscia di Gaza con atrocità persino più agghiaccianti delle orribili pagine dell'olocausto e spiega perché si è arrivati a un punto cieco ripercorrendo 75 anni di occasioni perdute dal 1948 fino ad oggi se Hamas e non è il solo vuole cancellare Israele Putin continua a voler cancellare l'Ucraina con una guerra che ha fatto ormai centinaia di migliaia di morti e di cui non si vede la fine i colloqui dell'autore con Zaleski e con gli ultimi due ambasciatori russi a Roma chiariscono i dettagli di posizioni inconciliabili Vespa narra 80 anni di storia italiana intrisi di odio e rancore nel nostro paese la guerra civile non finì il 25 aprile 1945 ma nel giugno 1949 perché per tre anni dopo il silenzio delle armi ci fu una spietata caccia al fascista a quelli che si erano macchiati di sangue e a quelli che non c'entravano niente fino alla pulizia etnica di Tito e alle tragiche vicende dell'esodo Giuliano Dalmata il rancore e la speranza ritratto di una nazione dal dopoguerra a Giorgia Meloni in un mondo macchiato di sangue di Bruno Vespa edito Rai Libri Mondadori giornata di microcippatura gratuita ieri a Sambuca di Sicilia organizzata dalla sede di Sciacca dell'Eleganti Vivi Sezione con il patrocinio dei comuni di Sambuca e Santa Margherita Belice un'iniziativa la cui finalità è quella di diffondere la cultura della convivenza corretta responsabile e consapevole con gli animali familiari il primo passo per tutelare i cani e gatti dall'abbandono è infatti identificarli attraverso la registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione un obbligo di legge che viene spesso disatteso anche i comuni di Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice hanno dunque scelto di sostenere il progetto della LAV attraverso un'iniziativa che mira a contrastare il fenomeno del randagismo e gli abbandoni e passiamo adesso allo sport calcio tre gol e tre punti per l'unitas Schac che ha superato al Gurrera per 3 a 0 l'Accademia Trapani decisive le reti di Balde Secan e Bello con Balden e Bello arrivati a Schac da qualche giorno tramite il mercato invernale di riparazione la vigilia della partita è stata agitata dalle improvvise dimissioni del tecnico Davide Boncore a guidare la squadra in panchina ieri è stato Mario Dardes soluzione interna mentre adesso la società neroverde è chiamata a nominare il terzo tecnico stagionale sentiamo dopo tre partite senza vittoria torna al successo l'unitas Schac che ha superato nettamente per 3 a 0 al Gurrera l'Accademia Trapani portandosi al quinto posto della classifica del girone A del torneo di eccellenza con 19 punti la squadra è stata guidata in panchina da Mario Dardes dopo le dimissioni a sorpresa della vigilia del tecnico Davide Boncore evidentemente in rotta con qualcuno dell'ambiente Dardes in quella che sicuramente è stata finora la migliore prestazione casalinga stagionale dai neroverdi ha schierato subito dall'inizio i due nuovi acquisti balde e bello arrivati a Schac da qualche giorno mentre Concialdi era assente per squalifica il match è stato ben giocato dallo Schac che ha dominato per tutti i 90 minuti rischiando poco e portando a casa tre punti meritati che danno ossigeno e morale all'ambiente e alla classifica il primo tempo è stato un lungo monologo dei padroni di casa con numerose occasioni da rete sventate dal numero uno trapanese la rete del vantaggio è arrivata soltanto nel finale di frazione grazie ad un'azione personale dell'attaccante Baldè schierato in avanti in coppia con Secan nel secondo tempo la trama dell'incontro non è cambiata dopo tre occasioni fallite per questione di centimetri finalmente va in rete Secan di testa a seguito di un calcio d'angolo battuto dai raci gli ospiti non superano mai la metà campo e lo Schac chiude l'incontro a metà ripresa con l'altro nuovo acquisto Bello a segno con un tiro da fuori aria a fine gara in conferenza stampa Mario Dardes ha ringraziato il tecnico Boncore sia per aver preparato questo match nel corso di tutta la settimana sia per aver voluto gli acquisti di Baldè e Bello già risultati importanti e decisivi Dardes che poi ha confermato di non essere disponibile a guidare la squadra a tempo pieno per via dei suoi impegni familiari e professionali dunque il presidente Pasquale Bentivegna e la società dovranno scegliere un terzo tecnico anche se c'è chi ipotizza il ritorno in panchina di Lillo Bonfatto che aveva cominciato la stagione ad agosto prossima partita per lo Sciac domenica 10 dicembre in trasferta contro il Profavara seconda forza del torneo ancora sport doppia vittoria per il Volley Club Sciac la squadra maschile ha superato il pace del Mela per 3 a 0 e si conferma in testa alla classifica mentre la squadra femminile ha vinto in trasferta a Monreale conquistando tre punti importanti in chiave salvezza contro una diretta concorrente sentiamo quinta vittoria su cinque partite disputate per il Volley Club Sciacca nel campionato di serie C maschile girone A i ragazzi di Enzo Graffeo hanno superato per 3-7 a 0 l'Atlon di pace del Mela i parziali sono stati 25 a 21 25 a 20 e 25 a 21 match abbastanza equilibrato ma i saccensi nei momenti determinanti hanno dimostrato più qualità ed effettuato lo strappo vincente si accenzi al comando della classifica da imbattuti con 14 punti uno in più rispetto al termine imerese ieri vittorioso contro il club Leoni Palermo questo è il commento del giocatore Davide Caracci bellissima partita da parte nostra dopo tutti gli allenamenti che abbiamo fatto e siamo andati bene oggi molto bene abbiamo giocato molto bene ricezione qualche sbavatura in contraattacco però si può fare sempre meglio noi puntiamo ad andare sempre più in alto contro un ottimo avversario mi pare sì 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 pace del mela è una bellissima squadra che difende molto e diciamo ci ha impensierito in molte in molte occasioni però noi siamo stati molto bravi prossima partita sabato 9 dicembre alle ore 17 in trasferta contro l'SP Auto di Mazzara del Vallo nel campionato di serie D girone A la squadra femminile del Valle Clebisciacca ha vinto 3-7-1 a Monreale questi parziali 23-25 per le ospiti poi 27-25 per le palermitane infine i due set decisivi in favore del sestetto di Nino Marchese con un doppio 15-25 tre punti importanti in ottica salvezza con le seccenzi che adesso hanno sei punti in classifica il prossimo fine settimana la squadra femminile del Valle Clebisciacca osserverà un turno di riposo si torna in campo sabato 16 dicembre in trasferta contro l'Autosystem Palermo ottimi risultati degli allievi dell'Associazione La Danza di Sciacca preparati dalla maestra Aurelia Lalicata che ieri a Palermo hanno partecipato al concorso Balletto Italia Dance Competition sul podio nelle rispettive categorie di appartenenza Clara Casciaro Cristian Ianovic Alice Augello Francesca Scandaia Gabriella Schittone Angelica Diaz Sara Scaduto e Chiara Spallino Atena Benenati e Sofia Spallino la giuria ha segnato a tutti i danzatori svariate borse di studio siamo in chiusura per questa edizione grazie anche oggi per essere stati con noi appuntamento alle prossime a tutti i danzatori